buongiorno e benvenuti ad un nuovo corso intelli energy oggi affronteremo le l'argomentazione del mondo wireless quindi lasceremo un po tutto quello fatto nei precedenti webinar che riguardavano la gestione del degli impianti di riscaldamento mediante sistemi flower bava come si programma e quant'altro e passiamo a un'altra argomentazione completamente di per sé slegata ma anche che in parte poi si può andare a rilegare e lo vedremo alla fine a rilegare alla configurazione degli impianti di tipo riscaldamento o anche condizionamento di per sé il mondo del monitoring intelli energy nasce per andare a fare come lo dice la parola stessa un monitoraggio di quelli che sono le condizioni ambientali o comunque le condizioni di riferimento che ci serve monitorare o che o andare a misurare delle grandezze che non sarebbe possibile misurare se non facendo grossi lavori di intervento in campo per poter tirar fuori le informazioni in forma wired e cablata andiamo a questo punto a vedere le argomentazioni che tratteremo nella mattinata faremo un accenno generalizzato di come funziona l'architettura del sistema intelli energy quelle che sono le caratteristiche peculiari del sistema l'ora l'ora che sta per long range è un sottoprotocollo che non è un protocollo nostro ma è un sottoprotocollo di l'ora one che è utilizzato ed è un protocollo ormai standardizzato noi sfruttiamo quel tipo di funzionalità per andare ad applicare i nostri dispositivi per andare a far comunicare i nostri dispositivi verso tra periferia e ricevitore faremo una rapida panoramica di quelle che sono i dispositivi ad oggi disponibili per l'acquisto e dopo di che passeremo alla parte pratica cioè vedere come si crea un'infrastruttura mediante l'utilizzo del tool di programmazione l'ora sider di come si fanno le associazioni quelle che sono le caratteristiche specifiche per lo start up di un sistema di questo tipo la modalità con cui lo affronteremo sarà una modalità io la chiamo easy cioè semplice perché stando ai manuali seguendo le istruzioni degli ingegneri hanno sviluppato bisognerebbe seguire una serie di procedure più articolate ma il cui scopo finale è comunque raggiungere l'associazione della sonda con il concentratore c'è una modalità semplice automatizzata e poi vedremo che permetterà all'operatore di fare velocemente tutte le operazioni di associazione ed eventualmente solo successivamente si ha bisogno di fare cose più particolari entrare in una modalità avanzata che comunque vedremo dopo aver visto la modalità easy affronteremo quelle che sono le modalità avanzate di configurazione dei dispositivi infine finita questa parte che chiude di fatto la programmazione di un ricevitore wireless con i suoi dispositivi wireless remoti si passa all'interfacciamento del dispositivo concentratore verso il mondo esterno nel caso specifico lo vedremo sul nostro mondo quindi sul mondo del flower e ci ricollegheremo a tutto quello fatto nel nelle precedenti visto nelle precedenti web andiamo a fare una rapida una prima a un primo accenno di quelle che sono le documentazioni a vostra disposizione essendo un mondo molto schematizzato come realizzazione quindi non c'è molto da variare tra sito e sito tra dispositivo e dispositivo a differenza di un'installazione di un controllore fine a se stesso che ha necessità molto estese quindi non prettamente raggruppabile in un manuale il mondo del wireless è stato correttamente e accuratamente manualizzato e in questi tre link troverete i tre elementi principali per capire come funziona la struttura come si fanno gli interfacciamenti quelli che sono i comandi che si possono andare a dare ai dispositivi quelle che sono tutto quello che affronteremo oggi escluso la configurazione del mondo sul mondo del flower che esula da da questi manuali quindi su questi tre link disponibili sul nostro sito potrete scaricarvi tutto il necessario per rivedere in modo anche più a dettagliato rispetto a quello che vi illustrerò oggi durante la mattina allora facciamo una panoramica generale di com'è un'infrastruttura di tipo wireless allora partendo dal controllore partendo dal controllore di in questo caso rappresentato da una icon 200 ma può essere un qualsiasi nostro controllore o un qualsiasi controllore di qualsiasi marca basta che abbia una porta 485 modbus di interfacciamento la 485 modbus permette di andare a collegare le due tipologie di ricevitori ad oggi in commercio che sarebbero l'igv 01 e l'igv 02 principalmente vendiamo l'igv 02 compatto più piccolo a una a una porta a una ricezione una possibilità di accogliere dispositivi ridotta rispetto all'igv 01 sui manuali principali lo troverete si parla di 40 dispositivi wireless contro se non mi ricordo male è 250 del dell'igv 01 ma intervengono limiti prima di arrivare a questi numeri quindi alla fine la differenza è relativamente bassa i due dispositivi sono entrambi in modalità di comunicazione l'ora con frequenza di lavoro la frequenza base la 868 quindi una frequenza libera a 14 milliwatt se non ricordo male bene ogni dispositivo avrà la possibilità di comunicare con i suoi sottodispositivi mediante sistema radio eh ogni dispositivo dialoga direttamente con il proprio ricevitore non nel mondo l'ora long range non è previsto l'utilizzo di un ripetitore eh ad oggi la necessità di andare a utilizzare dei ripetitori o il bisogno necessario in tutti i modi di andare a utilizzare di allungare il range del ricevitore è stata veramente ha avuto un impatto estremamente ridottissimo quasi assente in tutte le installazioni che ad oggi abbiamo affrontato abbiamo sempre trovato delle soluzioni studiando l'ambiente trovando la giusta posizione del ricevitore dell'antenna abbiamo trovato il modo di raggiungere tutte le aree quasi sempre tutte le aree pertinenti che dovevamo coprire la necessità di tra virgolette allungare il range non potendolo fare tramite ripetitore comporta la necessità di avvicinare tra virgolette il ricevitore alla zona interessata per per avvicinare il ricevitore essendo il ricevitore su modbus 485 questa lunghezza di cavo scusate sono tornato indietro questa lunghezza del cavo può arrivare fino a 600 metri complessiva quindi da dove inizia a dove finisce può essere lunga 600 quindi laddove ci sia necessità di portare di avvicinare il ricevitore all'interno di un ambiente sarà possibile farlo allungando il cavo portando l'alimentazione il cavo e installando il ricevitore quanto più possibile in posizione ottimale rispetto a tutto il resto dei dispositivi nel manuale principale troverete troverete delle illustrazioni che vi fanno un po capire i concetti con cui si provvede a fare a fare l'installazione quali sono le metodologie installative da applicare al fine di ottimizzare e migliorare al massimo la ricezione da parte dei concentratori vi do un consiglio che esula da quello che troverete sui documenti tutte le antenne che lavorano sul mondo 868 hanno un lobo semisferico tendenzialmente semisferico per cui l'antenna a differenza del gsm che più alta si mette meglio è sulla frequenza 868 cercate di rimanere sullo stesso livello delle sonde o al più leggermente sotto per per cui riesce a migliorare la ricezione creando una sorta di semisfera verticale andando a coprire le varie zone giusto per farvi capire il concetto di come lavora il sistema di quali sono le coperture del sistema abbiamo realizzato con cop service la fornitura di ricevitori per l'ospedale di salerno se non mi ricordo male che chi conosce la zona somma sa che è diviso in diversi padiglioni e con cinque ricevitori abbiamo coperto l'intero territorio andando a coprire muri compresi oltre gli 80 metri di copertura quindi tolto le zone particolari del tipo la sonda all'interno della radioterapia diventa difficile farla trasmettere ma nelle installazioni tradizionali in cui la sonda sta all'interno di un ambiente ordinario quindi pareti in muratura o cemento si riesce a fare molta strada con questo tipo di protocollo rimane sempre fondamentale per l'installazione il test sperimentale quindi una volta fatta le associazioni le prove che dovranno essere fatte prima di procedere l'installazione è quella di capire se la zona in cui abbiamo previsto di montare il ricevitore in cui abbiamo previsto di montare i vari dispositivi sia coperta facendo delle prove vere e proprie prove sperimentali è la cosa migliore anche perché in molti ambienti soprattutto di tipo ospedaliero gli ambienti sono estremamente fortemente disturbati dalle apparecchiature elettroniche che ci possono stare quindi nella frequenza 868 che è una frequenza libera ci può girare sopra qualsiasi cosa che potrebbero disturbare ora la frequenza 868 lo vediamo successivamente a dei sottocanali per cui si riesce laddove ci dovessimo accorgere che un canale fosse occupato per qualcosa visto che sono frequenze libere anche il semplice telecomando del cancello usa queste frequenze laddove si vede che ci fossero delle problematiche provare a cambiare il canale potrebbe risolvere alcune volte potrebbe risolvere il problema andiamo a vedere quelle che sono le prime caratteristiche peculiari che riguardano il nostro mondo allora la prima cosa da capire che torno un attimo indietro che i dispositivi wireless nascono con un proprio identificativo che viene registrato in fase di associazione alla sonda associata questo serve per evitare di prendere una sonda e poterla portare da un'altra parte e fare in modo che quella stessa sonda che era collegata sul concentratore 1 sul canale a se vado su un altro concentratore 1 canale a funzioni lo stesso bene questa cosa qui è impedita da cosa dal fatto che i dispositivi nascono come rete sicura o rete flessibile ad oggi i dispositivi venduti ad oggi sono solo ed esclusivamente su rete sicura qual è la differenza la differenza sta nel fatto che il codice interno del ricevitore identificabile con una sorta di serial number quindi diciamo il ricevitore 1 nasce come rete flessibile perché rientra negli indirizzamenti esadecimali da 00 a 4095 bene se il ricevitore nasce come rete flessibile io posso prendere un altro ricevitore in rete flessibile e cambiargli il proprio id interno per essere uguale a quello precedente è molto comodo laddove dovesse avere un problema su un ricevitore sostituendolo rimettendolo rimettendo ricevitore nuovo che ha un id diverso con lo stesso idd precedente posso prendere dal database e scaricare il programma precedentemente salvato di tutte le associazioni sono delle sonde riprendono a funzionare regolarmente per dal punto di vista della sonda non si accorge della differenza tra un ricevitore e l'altro dal punto di vista della scelta aziendale però ad oggi lavoriamo solo su rete sicura quindi gli indirizzamenti dei dispositivi vada 4096 in su quindi tutti i dispositivi il gv 02 o gv 01 che avete partono con un indirizzamento dal 4096 in su bene questo tipo di rete non è il concentratore in questo tipo di rete il concentratore non è sostituibile direttamente cosa vuol dire che sia un guasto e il ricevitore per qualche motivo è da buttare via quindi non è neanche riparare e ne devo mettere un uovo che ha un seriale diverso inevitabilmente dovrò prendere tutte le sonde e ri associarli con la sequenza che avevo nel precedente ricevitore per non avere problemi poi sulla mappatura del mondo occhio a questo piccolo aspetto per cui è più sicura però giustamente è meno flessibile non lo di lo dicono le parole stesse quindi occhio a questo piccolo particolare quindi tutti i dispositivi che riceverete arriveranno tutti in rete sicura bene andiamo a vedere il discorso della frequenza di utilizzo la frequenza di utilizzo 868 ha al suo interno sei sottocanali che sono quelli rappresentati in questa tipologia di nel nello schermettino questo questi canali sono sceglibili a piacimento di default tutti i ricevitori vi arriveranno quindi nuovi arriveranno su tre programmati sul canale a dopodiché ad ogni canale viene fatto un sottodivisione in base al tipo di copertura che dobbiamo ottenere nell'installazione che stiamo andando a fare le coperture sono tre lunga portata media portata breve portata quindi long distance a medium distance e short distance nel programma si troverà all'inglese quindi per ogni canale abbiamo queste tre differenze che differenze ci sono non sono differenze di potenza quindi non è che sul canale trasmetto con più o meno potenza ma la sonda nel mondo l'ora e questa la peculiarità il segnale sta in aria tanto quanto è la tipologia scelta quindi se si ipotizza che una trasmissione di una temperatura in modalità sul canale a di tipo lunga portata trasmette per un tempo pari a 4 nella portata media 4 secondi intendo nella portata media trasmetterà per due secondi nella portata breve per un secondo quindi ridurre la nel canale a ridurre la portata permette alla sonda di avere una lunga una vita della batteria molto maggiore quindi si allunga il tempo medio della batteria si accorcia ovviamente il range di copertura quindi la scelta del della tipologia di portata da utilizzare dovrà essere fatta preventivamente all'installazione per cui se vedo perché ho fatto un sopralluogo che riesco a rientrare e poi lo capiremo meglio riesco a rientrare con le sonde nei range che variano tra due da tre in su potrei provare ad abbassare la portata la portata media questo oltre a migliorare la migliorare la durata della batteria ha un altro effetto non indifferente cioè quello di occupare meno il canale per cui immaginatevi un'installazione dove ho su un canale in lunga portata una sonda che sia lunga media o breve la sonda è lei che trasmette su quel canale nessuno gli rompe le scatole trasmette e non si rompe le scatole con nessuno se io metto già due sonde esiste nell'arco dei 10 minuti tra una trasmissione la successiva esiste la possibilità per quanto vaga che le due sonde vadano spontaneamente in trasmissione nello stesso istante in modo anche in modo parziale e quindi i due segnali si sovrappongono impodendo al ricevitore di ricevere entrambi i segnali bene più è lunga il tempo di trasmissione più è facile che avvenga questo infatti nel sistema di lunga portata long range si inizia ad avere difficoltà di battitura del segnale si chiama così quando due segnali si sovrappongono già con le 25 30 sonde quindi si vede poi lo vediamo dal grafico che è arrivato a un certo punto la battitura del segnale è molto frequente questo comporta un altro problema non solo la mancata ricezione del segnale ma il fatto che se il segnale non arriva le sonde tutte le sonde sono programmate per fare ad ogni singola trasmissione almeno due tentativi bene su questi due tentativi se il primo va male fa anche il secondo quindi per ogni campione trasmesso non fa una trasmissione rischia di farne due con la conseguenza che il tempo di trasmissione doppio e quindi la batteria dura meno quindi per assurdo metto un valore che non intacca di per sé la batteria ma se metto troppe sonde la batteria ne risente comunque proprio perché deve aumentare i tentativi di trasmissione si parla da un certo numero di installazioni in su per cui non è molto non è frequentissimo di fabbrica vi ricevo troverete tutti gli impianti programmati sul canale a a lunga portata le apparecchiature di ultima generazione tuttavia a parità di canale utilizzato hanno un nuovo sistema di autoanalisi del segnale che permette alla sonda di abbassare il segnale di trasmissione laddove vede che arrivano un segnale estremamente alto poi lo capiremo la sonda ha sempre la doppia informazione cioè sa come lei arriva al ricevitore e ovviamente sa come il ricevitore arriva lei come livello di segnale bene questo tipo di analisi fatta internamente alla sonda permette alla sonda stessa di abbassare la potenza per cercare di salvaguardare al massimo la batteria attenzione la scelta della modalità di trasmissione vi dicevo dipende da questi fattori che vi ho appena illustrato quindi la possibilità di avere sonde che ricevono molto bene perché sono nel raggio di 20 metri dal ricevitore 20 30 metri dal ricevitore bene a basso la la portata per avere una salvaguardia maggiore del canale e della batteria ma al tempo stesso le installazioni ci devono far ragionare anche su quale canale utilizzare quando si utilizza un canale quel canale è ad uso di quel ricevitore per cui se su quel ricevitore metto sul canale a e ci attacco 10 sonde poi su un ricevitore accanto che più o meno è nella stessa zona che va a coprire un'altra parte dell'edificio ci metto sempre il canale a con altre 10 sonde le 10 sonde del primo ricevitore le 10 sonde del secondo ricevitore arrivano ognuno al proprio ricevitore tuttavia sfruttando lo stesso canale è come se avessimo 20 sonde sullo stesso ricevitore concettualmente quindi l'ingombro del canale radio è pari a 20 sonde 40 50 in base a quanti ricevitori metto all'interno dello stesso ambiente che vanno sulla stessa frequenza quindi laddove si deve fare delle scelte questa cosa viene fatta spesso negli ambiti ospedalieri in cui i ricevitori hanno parzialmente o completamente la stessa area di copertura si va a utilizzare da ricevitore ricevitore canali distinti quindi il ricevitore che installo nella posizione 1 ci metterò il canale a quello che metterò nella posizione 2 che nel centro a metà strada tra i due si sovrapporranno per evitare di darsi fastidio lo metterò sul canale b quindi canale a il primo ricevitore canale b il secondo ricevitore e via di seguito questo ci permetterà di avere una una diminuzione drastica dell'errore di trasmissione di quello che è la comunicazione tra sonda e ricevitore andando avanti questa è un po la spiegazione che vi dicevo adesso collego a una centralina nel caso del caso rappresentato una icon 500 via modbus i due ricevitori che vanno a fare perché per scelta ne voglio mettere uno accanto all'altro quindi hanno di fatto la stessa esatta totale copertura vado a scegliere il canale necessario un canale diverso tra l'uno e l'altro ricevitore laddove invece la copertura non è non è la stessa possiamo andare anche a utilizzare lo stesso canale basta che i due ambiti due ricevitori siano tra di sé fuori portata quindi considerando il fatto che il modbus il cavo modbus 485 può arrivare fino a 600 metri di distanza può capitare che io porto a giro un cavo bus che mi va a fare più ricevitori e su il ricevitore 1 ci metterò canale a quello di default così almeno non sto a modificarlo e sul secondo ricevitore ci metto comunque canale a perché dall'altra parte dell'edificio non ci si arriva non si vedono neanche lontanamente perché nel mezzo c'è 600 metri di cavo steso quindi il problema non si può le scelte sta a chi crea la rete quindi occhio a queste piccole particolarità del del funzionamento questo è quello che vi dicevo questo grafico rappresenta le tre curve rappresentano la battitura del segnale messaggi persi in percentuale quando si arriva a determinati livelli di trasmissione questa curva che sale per prima è la long range questa è la medium range questa è la short range quindi il grafico fa riferimento all'igv 01 e comporta 250 sonde con una trasmissione media ogni 30 minuti quindi si capisce e se riduco il tempo di trasmissione medio più o meno ci si attesta in questa zona dove vi dicevo io e comunque si vede anche prima del picco di perdita dei pacchetti si nota come la modalità long range ha una perdita in percentuale dei pacchetti trasmessi con un'incidenza non trascurabile per cui quando si arriva intorno a 50 sonde il 10 per cento dei pacchetti trasmessi dalle sonde sul canale è perduto quindi capite che il 10 per cento di fatto accorciamo la vita media delle batterie del 10 per cento in soldoni vuol dire questo quindi occhio a questo aspetto stateci stateci attenti bene ho fatto una carrellata molto veloce su quelle che sono le peculiarità della rete radio perché non voglio stare a soffermarmi su tecnicismi che gli lascio a chi è in grado di apprezzarli non me e soprattutto che è in grado di spiegargli più approfonditamente si entra in una profondità della conoscenza della rete radio che non ci serve in questo momento per capire come fare a programmare e a installare una rete radio capiti i concetti precedentemente illustrati sono quelli fondamentali si passa direttamente alla parte più pratica allora intanto ne andiamo a vedere quali sono i dispositivi che il mondo intellinei mette a disposizione allora abbiamo il ricevitore wireless gateway che è un dispositivo modbus collegabile alimentabile collegabile poi via 485 in modbus rtu a un controllore icon o imc oppure a un qualsiasi dispositivo di terze parti che possa andare a far a fungere da master modbus in alternativa abbiamo l'ivumon è un prodotto relativamente nuovo il concetto è risalente alla stessa generazione del mondo wireless soltanto il prodotto è nato da pochi mesi è un ricevitore a tavolo come vedete che può essere sia collegato in modbus ma non solo ha al proprio interno una porta ethernet per poter essere collegato collegato direttamente a una struttura ethernet internamente a una struttura linux per cui lui all'interno ha un web server laddove quindi si debba andare a fare semplicemente monitoraggio puro e non ci serve andare a interagire con nient'altro questo dispositivo all'interno sistema linux permette di avere e di andare a pubblicare direttamente le informazioni dei propri ricevitori dei propri dispositivi collegati al ricevitore questo oggetto ha due canali wireless può avere fino a due canali di default ne ha uno c'è il modello con doppio canale l'ora c'è il modello con canale l'ora e canale l'ora one che serve per fare altro in fase di sviluppo e siamo in fase di sviluppo poi a bordo una porta 485 e basta se non mi ricordo male questi sono i dispositivi che abbiamo a disposizione a livello di centro operativo a livello di centralizzazione quindi useremo uno di questi due nelle installazioni solitamente fatte sugli impianti termici useremo principalmente questo modello andando avanti abbiamo a disposizione 48 elementi scusate otto elementi remoti quindi le prime quattro sono sonde di temperatura quindi temperatura tradizionale temperatura umidità temperatura umidità voc che è volatic organic component temperatura umidità co2 abbiamo anche un modello di sonda che qui non l'ho riportato perché me ne sono dimenticato che è la temperatura più umidità più illuminazione più lux quindi e tra l'altro nel disegnetto che ho messo su questa parte c'è proprio il pulsante il il simbolino del luxmetro inserito sulla sonda questo tipo di sonda al proprio questo tipo di sonde hanno al proprio interno tutti gli elementi sensibili per la lettura del delle informazioni tuttavia esiste un modello per la temperatura umidità che permette di avere invece che l'elemento sensibile interno la scatoletta uguale mette a disposizione una morsettiera che va via che poi che mette a disposizione un ingresso pt 1000 e un ingresso 0 10 volt per collegare elementi esterni alla sonda di tipo di temperatura o temperatura umidità la configura ovviamente lo 0 10 volt in ingresso richiede una sonda attiva quindi la sonda attiva dovrà non può essere alimentata da questo dispositivo batteria dovrà avere una sua alimentazione ausiliaria collegata per fatti suoi prendendo corrente dove dove l'installatore richiede richiede ritiene opportuno questa modalità di installazione molto utilizzata proprio in quegli ambienti e vi dicevo prima cioè in quegli ambienti dove abbiamo bunker di fatto bunker per la rete radio in cui non c'è verso uscire né entrare con la rete radio e devo comunque andare a prelevare delle delle informazioni bene in quella circostanza metto lo scatolotto wireless al di fuori dell'ambiente parto con il cavo passo tramite i cabelli previsti dall'installazione entro dentro l'ambiente schermato andando di installare l'elemento sensibile nel punto che preferisco quindi remotizzo rispetto al posizionamento del trasmettitore wireless remotizzo l'elemento sensibile che solitamente invece è all'interno in tutti gli altri modelli a parte quello che vi ho appena descritto l'elemento sensibile fisicamente saldato sulla scheda ed è di tipo digitale pretarato per cui hanno una precisione allo 0,1 gradi centigradi andando avanti abbiamo a disposizione come come elemento di sensibile temperatura esterna livello di un liquido in cisterna conta impulsi ne abbiamo due modelli due due ingressi e quattro ingressi il modello con quattro ingressi mette a disposizione anche un'uscita e poi vedremo vedremo come due uscite forse ora non mi ricordo e infine abbiamo un convertitore modbus da modbus rtu ai wireless questo oggetto che se vedete il nome si chiama 20vgi è identico all'igv02 questo oggetto fa esattamente l'effetto contrario invece che ricevere wireless e mettere a disposizione su modbus le informazioni che riceve su wireless fa esattamente il contrario prende le informazioni da modbus e le trasmette ad un ricevitore via wireless questa modalità è utilizzata principalmente per andare a leggere elementi come questo questo oggetto è un analizzatore di rete elettrico lo scollego un attimo è un analizzatore di rete elettrico piuttosto piccolo che è in modbus e viene collegato in modbus a uno di questi oggetti e tramite quindi il il convertitore r da modbus a wireless trasmetto le informazioni a il dispositivo di centralizzazione questo oggetto nello specifico è un oggettino un analizzatore di rete trifase andiamo avanti quindi questa modalità permette di andare ad collegare un qualsiasi mod un qualsiasi modbus e in questo caso lui funge da master modbus quindi non necessariamente deve essere un oggetto così quell'oggetto è liberamente programmabile per questo se ci vado a collegare un analizzatore di rete questo analizzatore di rete internamente il programma ha già una sua mappatura quindi gli andrò a dire ho collegato un qud power meter t trifase gli indirizzi del modbus dopo di che gli che gli dico carica dalle mappatura di default e lui so già tutti i registri quali sono diversamente lo potrei utilizzare e lo vedremo meglio più tardi in modo fantasioso se dovesse avere che ne so delle sonde modbus all'interno di una sotto centrale le potrei collegare a questo oggetto e trasferirle via modbus cioè tramite modbus entrano nel 20 vgi che poi provvede a trasferirle verso il dispositivo remoto in quel caso la mappatura va fatta manualmente attenzione ad un aspetto non trascurabile questa trasmissione non è continua perché uno pensa al modbus trasmette dialoga continuamente con il centro operativo ma al momento che viene convertito in wireless vale la stessa regola del wireless di tutte le sonde a batteria il 20 vgi dimenticavo è alimentato all'alimentazione da 12 a 36 volt in continua quindi quell'oggetto pur essendo alimentato comunque trasmette a tempi certi minimo ogni 10 minuti di default poi impostabili ma minimo 10 minuti di default perché 10 minuti e non non 5 non 3 come tutte le altre sonde tornando e faccio un passaggio indietro su quella che era la rete radio perché ogni 10 minuti lo standard 868 richiede una specifica funzionalità che ogni dispositivo presente su un canale non occupi il canale per più dell'un per cento del duty cycle del canale cosa vuol dire che ipotizziamo su 100 minuti io al massimo posso stare in trasmissione esagerando un minuto su 100 minuti quindi facendo un rapido calcolo si va a capire quello che è l'occupazione del canale non tanto come occupazione del canale della trasmissione sono la sonda trasmette per circa quattro secondi ma devo considerare la doppia trasmissione e siamo ad otto e la risposta che siamo a 12 quindi si va in una modalità che la il tempo di trasmissione di scambio dati in aria è piuttosto lungo come tempo di trasmissione per questo motivo non non potendo per norma occupare il canale per più dell'un per cento il tempo di trasmissione minimo di tutti i nostri dispositivi è preimpostato a 10 minuti quindi anche se hanno tante informazioni da trasmettere le trasmettono con la maggior frequenza di defolta a 10 minuti poi vedremo come cambiare eventualmente questi questi parametri andiamo avanti allora si passa a questo punto a analizzare quello che è il tool di programmazione il tool di programmazione che si chiama l'ora sider lo troviamo sul nostro sito vi ho riportato qua su il link di dove andare a scaricarlo dovrete essere registrati sul sito per scaricarlo è una registrazione gratuita per cui basta ehm se non siete registrati vi registrerete seguirete la procedura di registrazione nel giro di qualche ora vi verrà ehm vi verrà inviato l'autorizzazione all'accesso e a quel punto potrete andare a scaricarvi il il programma che desiderate una volta installato il programma eh una volta scaricato il programma l'installazione va lanciata in modalità amministratore quindi chi esegue l'installazione deve essere amministratore della macchina su cui state facendo l'installazione se non lo siete procuratevi le credenziali di amministratore o chiedete a chi gestisce le vostre macchine di eseguirvi l'installazione in modalità amministratore altrimenti ci sono una serie di passaggi che potrebbero non andare a buon fine quando arriverete a fare l'installazione seguirete la procedura che lui vi presenterà eh avanti 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 quasi sempre a parte questa schermata che è la seconda eh se state facendo una nuova installazione gli dovrete dire nuovo database se state facendo un aggiornamento dovrete andare ad indicare database esistente lo troverà lui di default senza bisogno di fare niente di particolare andiamo a vedere come funziona i passaggi dell'installazione allora un attimino vado a prendermi il file di installazione lo lancio io l'avevo già scaricato ok questo è il programma di installazione avanti chiede e se il database deve essere creato nuovo o è esistente gli dico database esistente avanti lui automaticamente mi va a cercare e mi indica qual è il database esistente a cui punterà che quello che avrà trovato sulla mia installazione poi mi chiederà altre cartelle sia per la nuova installazione sia per l'aggiornamento in cui lui dovrà andare ad appoggiare sia i backup del database sia delle preconfigurazioni capiremo meglio che cosa sono le preconfigurazioni più tardi tendenzialmente gli daremo sempre le destinazioni l'epat di destinazioni di default dove installare il programma e se aggiungere eventualmente le icone sul desktop laddove vogliate vogliate utilizzare il loro asider non solo per fare programmazione associazione e quant'altro ma anche per utilizzarlo con con un elemento chiamato dongo lo vedremo dopo per scaricare dati storici direttamente dalle sonde leggere i dati salo archiviarli direttamente dovrete anche abilitare le funzionalità sq lite e quindi l'installazione la creazione di un database appositamente necessario per fare questo tipo di archiviazione se invece lo utilizzate per fare semplicemente configurazione come faccio la maggior parte dei casi delle volte io questa opzione non la non la selezioniamo andiamo avanti parte con l'installazione e e la porterà a termine piuttosto velocemente laddove avevate scelto di fare l'installazione anche del database vi presenterà delle domande relative all'installazione database che anche in quel caso la maggior parte delle volte farete avanti 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 perché sono domande relative a dove mettere il database con quali opzioni database selezionare ha già tutto selezionato di default internamente bene una volta finita l'installazione andremo a ad accedere al programma a fare le prime impostazioni bene quando arriverete a lanciare il programma loro dovrete sempre lanciare modalità amministratore e vi dovrete procurare se già non lo avete questo tipo di cavo un cavo usb di tipo mini usb per capirci il cavetto utilizzato per gli hard disk esterni che è il cavetto da utilizzare per andare a collegare la porta usb presente sul frontalino del dispositivo e poter collegare il nostro ricevitore bene riceve una volta che avrete collegato il vostro ricevitore al computer vi chiederà l'installazione di un driver installazione del driver che se verrà richiesta non mi ricordo se su windows 10 obbligatoria serve oppure no non me comunque vi apparirà eventualmente il driver di richiesta che troverete sempre sul nostro sito per cui lo apro un attimino laddove laddove vi chieda l'installazione del driver andando su mondo wireless selezionando il ricevitore che avete il gv02 per esempio nell'area download ora non sono logato troverete il driver di installazione che sono questi quindi laddove il computer vi chieda il driver scaricatelo e al momento che vi richiederà il file gli darete il file che avete scaricato una volta che avete scaricato il che avete scaricato e installato il driver la porta usb verrà riconosciuta dal computer con cui state lavorando verrà riconosciuta come una normalissima porta com quindi andando nella gestione delle porte vedrete vedrete la com che se ne va e se ne viene al bisogno io ho già le due com ho già due com sul pc una com non ci doveva essere che la scollego ecco bene quando arrivo a collegare il nostro cavo usb al dispositivo mi comparirà la porta com relativa a dove lui ha mappato la porta usb l'emulatore della porta usb un consiglio cercate di usare sempre la stessa porta sul pc perché tutte le volte che cambiate presa sul pc aggiungerà una nuova com quindi se avete quattro porte usb le utilizzate tutte e quattro lui tutte le volte vi mappa una com diversa quindi occhio a questo aspetto cercate di usare sempre la stessa è più comodo bene per andare a dire a questo punto co a per collegarsi al ricevitore la prima cosa da andare a fare è quella di impostare il nostro software per andare a leggere e a riconoscere la porta seriale quindi andando su impostazioni oltre ad accedere a le stesse cartelle di prima dove c'è dove c'era il database dove c'è la configurazione le pre configurazioni e poterle cambiare al bisogno avremo la possibilità di andare a cambiare la porta del gateway la porta usb del gateway andando a selezionare quella che ci serve per adesso lasciamo perdere questa di destra lo capirete dopo che cos'è si seleziona la porta con 5 è quella che mi compare a me selezioneremo conferma e a questo punto torneremo sulla sulla pagina di configurazione e comparirà questa pagina questa pagina il corpo principale della programmazione la schermata che state vedendo è la schermata della versione 1.9.5 quindi con tutti anche una serie di pulsanti nuovi se avete versioni più vecchie e non avete la schermata centrale fatta in questa maniera aggiornate la per comodità andiamo a vedere quelli che sono i campi di nostro interesse all'interno di questa schermata allora partiamo dall'ambito dalla colonna di sinistra sulla colonna di sinistra ci sono le informazioni relativamente al concentratore cioè come fatto il concentratore sull'ivn id troverete un numero esadecimale che rappresenta il network id che vi dicevo prima quello della rete sicura rete flessibile bene quel network id sulle reti flessibili sarà modificabile cliccando sulla pennettina sulle reti sicure anche cliccando sulla pennettina non sarà possibile modificarlo in alcun modo questo numero che vi ho appena illustrato lo troverete stampigliato anche sul ricevitore da un lato e sarà rappresentato dall'ultimo numero in basso e dall'ultimo ed è rappresentato dall'ultimo numero in basso che è questo qua giù 17821 il caso specifico bene l'altra cosa che troviamo è subito sotto il canale il canale da utilizzare avrete la scelta per ogni canale quindi dalla a alla f con le tre sottoscelte che vi dicevo quindi canale a short distance medium distance long distance canale b e si ripete all'infinito scorrendo sceglierete il canale attenzione ad una cosa estremamente importante in questa fase quando collegheremo il nostro ricevere ricevitore dovremo selezionare il canale prima di iniziare a fare una qualsiasi associazione sonda perché una volta associata la sonda la sonda sa che deve andare sul canale b medium distance bene se io lo sposto subì long distance pur essendo solo pur essendo sullo stesso canale devo ri associare la sonda perché altrimenti la sonda non sa che lei e che gli è stato anche è stato cambiato sul ricevitore la modalità di lavoro lei continua a trasmettere con la medium distance quindi con il tempo di trasmissione a ti mezzi quando in realtà siamo in long distance e il ricevitore si aspetta una trasmissione di altro tipo quindi fondamentale selezionare il canale prima di iniziare a fare l'associazione se è una sonda poco male ma se fossero 35 sonde e cambiate il canale a posteriori dovete riprendere tutte e 35 le sonde e cambiarle tutte una per una ri associarle tutte diventa un lavoro immenso da fare quindi occhio a questo aspetto ragionatelo prima andando avanti sulla scelta del canale si andrà a pre selezionare i parametri di rete sottostanti che sono semplicemente una visualizzazione di quello che è rappresentato in caratteristiche tecniche dalla scelta del canale dalla modalità di lavoro quello che mi interessa farvi farvi vedere è l'SF lo spreading factor allora il canale canale 3 sarebbe il canale C canale A sarebbe il canale 1 e via di seguito lasciando perdere gli altri due valori che sono puramente tecnici più specifici nostri lasciamoli perdere quello che serve per capire il concetto della long distance medium distance e short distance è questo l'SF la modalità che state vedendo adesso i numeri che vedete adesso sono casuali perché era l'apertura della configurazione senza concentratore collegato quindi mette lui dei valori di default quando ci si collega un ricevitore però dentro SF se siamo un canale long distance troveremo il valore 4096 che è un fattore specifico che indica quanto tempo la sonda deve stare in aria quanto il ricevitore come ricevitore impostato e come la sonda di conseguenza deve essere impostata bene questo tipo di valore come vedete si dimezza tutte le volte che cambiamo da 4096 si passa a 2048 nella modalità medium distance e short distance si riduce ulteriormente questo rappresenta di fatto il tempo indicativo è un valore in bit questo però indica il tempo di quanto dura la trasmissione quindi ipotizzando che fossero ipotizziamo che siano millesimi di secondo sarebbe quattro secondi due secondi un secondo non è proprio così ma fa capire il concetto quindi il tempo che ci vuole e che occupa al canale dipende da questo fattore che nella modalità avanzata si potrebbero andare a modificare manualmente però non entreremo in quel tipo di detta in questa casella subito sottostante troveremo i dati del ricevitore del concentratore nel corso del tempo il concentratore ha avuto svariate versioni dalla versione 1 alla versione attuale mi sembra 4.6 4.7 bene proprio perché nel corso del tempo sia ricevitori sia le sonde hanno avuto un'evoluzione è importante sapere la versione e da lì si vede semplicemente la versione non ci si fa niente solo una visualizzazione tuttavia comparirà una spunta accanto alla versione che è contrassegnata dalla scritta compatibilità che cos'è la compatibilità la compatibilità è un'informazione che va data al ricevitore per fargli capire per fargli capire semplicemente che c'è sulla sua rete radio delle sonde di vecchio tipo quindi sto collegando delle sonde nuove ma ho in campo tre sonde risalente alla prima serie versione del firmware della sonda 1 bene quel tipo di versione firmware l'idea dato che ha una struttura di rete diversa pur essendo l'ora ma è comunque leggermente diversa bisogna dire al ricevitore che ha delle sonde di quel tipo per sapere se la sonda è di tipo compatibile va impostata come compatibilità o meno vi dico come faccio io prendo la sonda faccio l'associazione non si associa riprovo faccio l'associazione e non riprovo e non funziona neanche la terza volta riprovo spuntando la compatibilità e solitamente funziona questo perché guardando fisicamente la sonda che è questa voi fisicamente non avete modo di capire come che cosa c'è dentro che versione ci sia l'unico modo che avete è fare la prova empirica che vi ho appena detto oppure guardando i numerelli stampigliati su un lato chiamare in ufficio da me supporto darci questi numeri uno di questi numeri l'ultimo l'ultimo per l'esattezza lsn il serial number e in base a quello posso risalire a quale versione aveva ma lo faccio io come lo dovrete fare anche voi se no prova empirica che è la soluzione più secondo me più rapida andando avanti abbiamo dei campi opzionali sono campi che sono lì per essere impostati in caso di bisogno il nome è il nome con cui viene salvato questo ricevitore la configurazione di questo ricevitore nel database dell'ora dell'ora sider se voglio identificarlo in qualche modo lì dentro ci posso mettere il nome che voglio diversamente lui metterà un nome di default accompagnato dal serial number del ricevitore per cui laddove un domani dovesse andare a fare una ricerca specifica del ricevitore che ho montato alla scuola marconi se non ho la scritta scuola marconi o mi sono segnato il seriale oppure non lo ritrovo l'altra l'altra spunta dell'altra schermata che vedete sotto è l'associazione che è la modalità di associazione per time out oppure easy che è la modalità di associazione continuata piuttosto che tutte le volte cliccare il pulsante associazione lo troverete lo troverete dopo la comodità di questo di questo pulsante lo capiremo dopo andando avanti c'è la parte fondamentale del ricevitore cioè come trovo questo ricevitore sulla mia rete modbus bene da lì vado ad impostare i valori di id del modbus del baud rate e della configurazione dell'area della seriale di default sono riportati qui i valori di default troverete lì di modbus 0 x 0 1 lo 0 x davanti al numero 0 1 non è un numero con una lettera ma indica semplicemente a uno stello standard per indicare che quello che segue la x è un numero di tipo esa decimale non decimale non decimale ma esa decimale quindi la numerazione che io posso dare al modbus non va da 0 1 a 99 in decimale ma va da 0 1 a ff dove 10 è rappresentato dalla lettera 0 a quindi numerazione di tipo esa decimale quindi se devo mettere 10 ricevitori avrò 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 10 11 12 e via di seguire bene andando avanti la velocità di comunicazione e la configurazione di default 38 e 4 n 8 1 quindi parità nessuna 8 bit dati un bit di stop questi parametri come vanno impostati in base a cosa si impostano ma soprattutto vanno modificati quindi tendenzialmente se avete solo il ricevitore collegato alla porta modbus della centralina no potete lasciare questi basta conoscerli questi vanno benissimo il nostro standard non a caso vanno benissimo per il tipo di porta che noi usiamo sul nostro ricevitore tuttavia come capita sempre più spesso se dovete andare a inserire il ricevitore in una rete modbus più ampia in cui ci possono essere che ne so caldaie pompe inverter contabilizzatori del gas e quant'altro tutti i dispositivi su una porta modbus devono essere tutti standardizzati con mod rate configurazione uguale quindi se per esempio porto un esempio su una caldaia riello che ho configurato di recente impedisce il modello di caldaia riello impedisce al modbus di modificare cioè non si può modificare il board rate quindi può essere solo 9006 né più né meno solo 9006 bene quella modalità quindi l'obbligo del fatto che la caldaia sta solo a 9006 mi obbligo di conseguenza a prendere il mio ricevitore ed abbassare il board rate da 38 mila 400 a 9600 laddove la configurazione sia diversa da n 81 la dovrò adattare anche quella quindi avremo parità even o quindi può essere n 81 e 81 o 81 e 82 c'è tutta una serie di possibilità che sono presenti dopo le vediamo nella lista delle selezioni possibili tali selezione va fatta in virtù quindi della rete su cui vi andrete a collegare andando avanti nella parte bassa ci spostiamo troveremo le note del ricevitore sono note non sono salvate sul ricevitore quindi non sono differenza degli altri dati che vanno a finire dentro il ricevitore che sono fisicamente mappati nel film del ricevitore questi elementi questo elemento non finisce dentro la programmazione ricevitore ma solo nella database quindi all'interno del nome del gateway delle note del gateway ci andrò a scrivere quello che ritengo più opportuno ricevitore installato in contro soffitto nel corridoio dell'ala est davanti alla stanza 12 quindi avere un campo che mi permette di andare a capire dove si trova il dispositivo diventa una cosa estremamente comoda il serial number andremo ad iscrivere sopra il serial number del dispositivo perché il serial number del dispositivo visto che ho l'ivn id quassù che è il serial number è una ripetizione sì è una ripetizione ma laddove limpia il ricevitore fosse sul rete flessibile io potrò cambiare questo serial number rispetto a quello che c'è stampato sopra il ricevitore stesso per cui qua dentro potrei scrivere il serial number fisico del ricevitore quindi il codice a bar con cui esce il ricevitore di fabbrica poi ci posso mettere il di che voglio però qua dentro ci vado a scrivere il serial number del dispositivo quindi non confondete l'ivn id con il serial number soprattutto per quanto riguarda le reti flessibili andiamo avanti qua sotto sarà un campo che riguarda le sonde una volta che ci saranno le sonde lo capirete meglio dopo selezionando una sonda dalla lista sovrastante qua sotto comprare compariranno i dati di quella sonda è solo una visualizzazione sono i dati che lui si salva nel database dell'ultima associazione fatta dell'ultima comunicazione presente quindi vi riporterà il modello il seriale le risorse firmware tv informazioni che al bisogno vi chiederò io per qualche tipo di problema del tipo avete una sonda rotta la dovete sostituire è in campo non sapete che sonda è non sapete il modello è non sapete che cosa ordinarci bene andando nel database selezionando la sonda che sapete di dover sostituire lì dentro troverete tutti i dati che dovete comunicarmi beh andando avanti sulla parte di destra per ogni sonda avrete la possibilità di inserire un vostro una descrizione a vostro piacimento è un campo note a vostro piacimento queste informazioni finiranno successivamente nel database solo nel database e potrete andare a stampare per cui se ipotizzo io scrivo nel mio database questi campi note poi voi arrivate con il vostro computer con il vostro loro sider vi collegate al ricevitore queste informazioni non le troverete ve le dovrò dare io dandovi copia della mia parte di database relativa a quel ricevitore ultima parte e poi una breve pausa sulla destra si trovano i campi di comando cioè tutti quei comandi che si faranno per a fare azioni effettive verso l'impianto i più importanti sono ovviamente la connessione usb quindi attivare la connessione che la vedremo subito dopo la pausa inviare la configurazione richiede la configurazione e soprattutto la parte centrale che è quella di vero e proprio comando al ricevitore per andare a fare un'azione verso un elemento esterno verso una sonda per esempio quindi associazione sonda sostituzione sonda che permettono quindi di andare ad arricchire il corpo centrale della configurazione con tutte le informazioni che ci servono in ultimo troveremo il pulsante modifica avanzata lo vedremo meglio successivamente ma tutti i pulsantini rappresentati dalla penna sono i default disattivi per attivarli bisogna prima cliccare su modifica avanzata e poi sulla penna questa differenziazione è fatta proprio per evitare modifiche erronee non volute quindi devo prima cliccare da tutta un'altra parte poi cliccare nel punto in cui voglio fare la modifica per abilitare la modifica solo a quella parte ed evitare quindi qualsiasi tipo di problema di cambio impostazione se sbaglio e metto un boad rate da 38.4 porto a 19.2 non me ne accorgo semplicemente perché ci ho schiacciato sopra e ho girato la rotellina senza volere bene quel parametro fa sì che quel ricevitore non verrà più visto dalla rete che c'è collegata su 485 bene queste opzioni le vedremo poi successivamente quando arriveremo a a vedere tutti i comandi non le vedremo tutte la parte di funzionamento del data logger per esempio in questo momento sono predisposte ma ne ancora non le avete disponibili sui ricevitori gv02 servono i dispositivi che fungono da data logger che al momento attuale non che in questo momento il corso non è mirato a questo saranno utilizzate per esempio sull'evo mon questi oggetti potranno quindi essere utilizzati questi pulsanti per dare comandi all'evo mon bene facciamo una breve pausa ci ritroviamo tra cinque minuti se avete qualche domanda su quanto inserito visto fino ad ora potete inserirla nella chat la discuteremo appena riprenderemo la presentazione a tra poco grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. A questo punto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.